La decisione del dottore Sant'Angelo di lasciare Sciacca in chioda alle proprie responsabilità quanti, pur avendo gli strumenti per impedire che ciò accadesse, sembra quasi che abbiano accompagnato lo stesso medico alla porta d'uscita e questa è l'opinione del PD in una nota firmata dal segretario provinciale Di Paola, dal responsabile provinciale per la sanità Giordano, per i quali siamo di fronte allo smantellamento dell'offerta sanitaria. I medici sono al servizio di ciò che stabilisce la Costituzione, anche a costo di rischiare lo scontro con le amministrazioni, noi non siamo servi del capocorrente del momento, noi siamo al servizio dei malati. PD che poi definisce indecente spettacolo di litigi per lottizzare alle poltrone la trattativa interna al centrodestra di governo per la scelta dei nuovi manager della sanità. È un mercato delle vacche che parte da Palermo e arriva in periferia, con tutte le conseguenze che possiamo vedere. La realtà è che noi ci svegliamo soltanto quando il disagio, le difficoltà, le sofferenze dei pochi medici che gestiscono questi reparti, è come se facessero saltare il tappo e ci si sveglia e ci si accorge che un reparto che sembrava funzionare solo perché c'era un solo medico, quando quel solo medico viene meno, semplicemente non c'è più. Ancora per i DEM si pretende di convincere la popolazione che la situazione dell'assistenza sanitaria nel territorio di Sciacca sia tutto sommato normale, che in fondo sia tutto in ordine, che i reparti privi o gravemente sguarniti di personale siano regolarmente aperti e funzionanti nonostante in realtà lavorino da anni in permanente carenze di organico. E allora forse dovremmo incominciare a ragionare in una maniera diversa. Quando si sceglie di fare i concorsi per i primari, in reparti dove c'è solo il primario e talvolta mezzo medico, quando va bene, quelli non sono reparti aperti, quelli sono reparti fasulli, tutt'al più sono ambulatori, con l'aggravante che gli ambulatori chirurgici non dovrebbero poter funzionare con un solo medico, perché chi è chiamato ad affiancarlo deve essere nelle condizioni di avere una competenza di poco diversa, possibilmente superiore e di poter completare gli interventi qualora per qualsiasi motivo il titolare non fosse in grado di effettuarli. Forse non abbiamo fatto i conti noi con le conseguenze di questa maniera levantina, volgare di gestire la sanità. Di Paolo e Giordano dicono che la politica deve togliere le mani dalla sanità e che è necessario tornare ad alzare la voce senza più aperture di credito. Perché si fanno i concorsi per i primari e non si fanno i concorsi per i dirigenti di primo livello, quelli che una volta si chiamavano assistenti o aiuti, pur essendo i posti vacanti da mesi o perché i bandi di concorso non vengono immediatamente riproposti o rinnovati quando il numero di partecipanti è diventato insufficiente perché nel frattempo quelli che chiedevano di partecipare si sono sistemati altrove. E poi si dice che i medici non ci sono. E poi si dice che i medici non ci sono, ma non è vero niente perché i nostri medici vanno a finire nel nord. Noi esportiamo non solo malati che chiedono di essere curati altrove, ma anche medici. C'è una malattia locale, siciliana, ma ancora di più, insisto io nel dirlo, c'è un male oscuro in questa provincia che fa considerare per i medici molto più importante essere esperti nello studio della geografia politica che non nel maturare competenze o nel mettersi a confronto con la migliore medicina possibile. Cosa si aspetta una persona con la sua esperienza quando ci sarà un nuovo direttore generale? Nulla che già non abbiamo visto. Noi abbiamo visto commissari e direttori di tutte le salse che hanno perseguito solo un unico obiettivo, ridurre le spese del pubblico per consegnare fette sempre più ampie di malati ai privati che spesso eredano non salute, ma prestazioni.